Il Biceglie di Bucaro, reduce dal successo in casa del Foggia, che ha specializzato il centrale difensivo Enrico Altobello, ex Bari, aspetta il Palermo di Boscaglia. Anche il rosa-nero avranno un volto nuovo Alberto Almici. La cavese dell'ex bianco-verde Modica invece attende la Vitervese, che ha rinnovato la fiducia a Maurizzi. Entrambe vanno a caccia della prima vittoria. Il Catania, forte della partenza sprint, farà visita alla Virtus Francavilla, nell'ultimo turno sconfitta e rimonta dalla Juve Stabia. Al ceravolo di Catanzaro, ma invece di scena, una gara dal sapore antico. I giallorossi affronteranno il Foggia. Satanelli, che in settimana hanno ufficializzato l'arrivo del centrocampista, ex Sampdoria e Livorno, Michele Rocca. Un altro volto nuovo per mister Marchionni, che aspetta Walter Zullo, ex Avellino. Il Teramo di Paci, sorpresa di questo avvio di torneo, attende la Casertana, reduce dal 3-3 contro la Ternana al Partenio Lombardi. La Tourist, che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, attende il Monopoli. Chiuderanno la giornata lunedì sera a Juve Stabia ed Avellino. Riposerà invece i bari di mister Gaetano Auteri.